Ciao, sono Matteo Cappella e voglio parlarvi di Riflessi, il brano uscito il 14 maggio, singolo che anticipa Intro d'acqua, l'album che vedrà la luce a giugno. Riflessi fa parte di questo Context Album, mi piace chiamarlo così perché è una raccolta di canzoni che condividono lo stesso paesaggio, la stessa ambientazione, che in questo caso è l'Appennino, è il mio paese, Bellegra. Riflessi è una canzone scritta davanti allo specchio della memoria, è una canzone fatta di ricordi in cui la nostalgia è il sentimento che guida le parole. Ho scritto Riflessi in un lampo, ma l'abbiamo poi arrangiata, registrata, mixata, con grande pazienza e grande cura. Il brano è stato arrangiato insieme a Mattia De Rio e registrato e mixato al Pratarone Studio con Luca Mazzenga, per poi essere masterizzato da Axel Ferrari. Daniele Quaglieri ha registrato la batteria e Giuseppe Di Pasqua è il basso. È l'ultima canzone dell'album ad essere stata scritta, ma abbiamo deciso di pubblicarla per prima, forse proprio per la sua natura solitaria e lunare. Tra pochi giorni uscirà il videoclip di Riflessi, ambientato nella mia campagna del cuore, che troverete su YouTube. Siamo riusciti a trasformare in immagini tutte le emozioni che ho sempre sentito appartenere a questa canzone. Al mio fianco troverete Giorgio Cantarini, Mario Albas Mariva, con la regia di Idio e il trucco di Laura. Vi invito ad ascoltare i riflessi che già trovate sulle piattaforme digitali e vi invio un grande abbraccio. Ciao a tutti gli amici di Social Artist.